Atto finale di Champions League all'Eur Sport Park si affrontano alla 43esima edizione di campionati assoluti di Yoke Up Autostop e Atletico Madrink che riceve lo scarico e prova a impostare un'azione utile per l'autostop che fa molta fatica a trovare ossigeno in questi primi minuti ottimo però lo spunto di Usai che se ne va via sull'auto di destra sguscia Usai incrocia gran tentativo a parte dell'autostop subito battere però Lamperti da Pierini ragiona con la suola Toschei occhio però perché Celentano gli scipa palla va tu per tu con Cherubini non può sbagliare vantaggio autostop Pierini cross e tesissimo occhio a Lamperti che chiama Oliveri al super intervento Celentano scarico da Molinari zona tiro chiuso vuole crearselo lo spazio chiamare un grande intervento Cherubini ancora però in possesso dell'Atletico Madrink alla ricerca disperata di un gol ennesimo no look Angione spalla alla porta Toschei sguscia via con un numero Toschei cosa aveva fatto è mancato solo il gol ed è via il pallone in calcio d'angolo scarico per Usai che vuole andarsene calciare Cherubini ancora una volta dice no Usai si avventa sul pallone rientra sul destro lo scarica Murato Usai si crea lo spazio per calciare col destro palla fuori di niente Celentano cambio repentino di velocità serve Usai torna da Celentano porta vuota sceglie il tacco Gangemi ancora da Celentano che sbaglia il rigore in movimento ma che azione dell'autostop ecco l'osservito viene a prenderlo a Picella Pierini serie di finte Lamperti vuole andare con la suola in maniera elegante ma alla cieca occhio allora la ripartenza è un 3 contro 2 per l'autostop a Picella potente Cherubini che parata Anche un colpo il numero 9 Cipriani L'imbucata Molinari ha un po' di spazio vediamo se se lo prende rientra sul destro pensa di farlo partire ancora una serie di finte ubriacanti Molinari potente Cherubini super intervento Toschei forte il pallone viene sporcato a Picella deve salvare i suoi sulla linea A Cherubini Toschei buono stop l'imbucata per De Belu che fa partire questo tiro cross Che minaccia l'area Celentano si muove tantissimo sguscia via Celentano servizio per Molinari che a porta vuota non può sbagliare raddoppiare per autostop Buonissimo a muoversi nello spazio a resistere di fisico e poi a scaricare con tantissima lucidità per Molinari che fa 2 a 0 Adesso diventa complicato per l'Atletico Madrink che vuole reagire Pierini Carte col destro Olivieri deve fare un super intervento In corsa lunghissima di Pierini potente spacca la porta che gol quello che accorcia per l'Atletico Madrink Che avanza su raggiazione a coprire totalmente la porta Toschei Lamperti dietro Cherubini A Picella trova un angolo impossibile toglie la ragnatela 3 a 1 autostop Molinari per l'ennesima volta in profondità da Celentano che vuole prendere velocità su Delu Per entrare sul destro palo clamoroso Pierini scarica c'è Toschei che rientra col sinistro spacca la porta riapre tutto per l'Atletico Madrink 6 di finte con la suola vuole prendere il fondo Toschei Apicella intercetta ma finisce qui la Champions League è dell'autostop che si impone 3 a 2